L'ufficialità verrà incisa in calce tra qualche giorno, ma le parole del presidente della Lega Pro Gravino non lasciano scampo di equivoci, o quasi. Le ripescate in terza serie nazionale saranno 12 o 11. Tutto dipenderà dalla Paganese, o meglio, dalla Collegio di Garanzia del CONI chiamato in causa dal club azzurro stellato dopo l'esclusione rifilata dalla Covisoc. Accadde la stessa cosa anche lo scorso anno. 12 mesi fa andò bene, questa volta la società campana potrebbe rischiare di restare fuori. Qualora accadesse in Calabria, festeggerebbero due tifoserie, quella amaranto della regina e quella rosso-blu della vibonese. I supporters in riva allo stretto possono dormire sonni tranquilli. Loro, in Lega Pro ci saranno. In bilico, la prima squadra di Vibo Valencia, sospesa tra Serie D e Serie C, come qualche anno fa quando il club di Pippocaffo fu ad un passo dal ripescaggio in terza serie, poi svanito per arzigogolate ed ingarbugliate postille regolamentari. Allora, alla Vibonese andò il poco edificante scettro riservato alla prima esclusa. Questa volta potrebbe essere l'ultima delle ripescate. Paganese permettendo che il ricorso dei campani si sta discutendo in queste ore a Vibo. Pare che siano arrivate garanzie di partecipazione al prossimo campionato di Serie C. Chance aumentata in maniera repentina, anche sulla base delle difficoltà che potrebbe incontrare la Cavese penalizzata per il lecito sportivo due anni fa. No problem. Per Albino Leff, Racing Club, Melfi, Lupa Roma, Fano, Fondi e Olbia, Forlì, Taranto e Regina, la squadra dello stretto riabbraccia la Lega Pro a distanza di 12 mesi esatti. Ed in città è già derby mania. Negli occhi dei tifosi amaranto alla stra-regionale contro i vicini del Messina, la squadra contro cui il 27 maggio 2015 la Regina giocò la sua ultima partita in terza serie. Alessio Bonpasso per la Cineus24. Alessio Bonpasso per la Cineus24.